E bentrovati amici di Team Tech, sono qui oggi per un nuovo video, stavolta non si parla di smartphone, ve lo anticipo subito, quindi se non vi interessa cambiate canale. No scherzo, rimanete qui perché vi voglio parlare di alcune cuffie davvero davvero molto interessanti. Prima di cominciare vi dico subito una cosa, io sono dell'idea che chi spende di più per quanto riguarda l'audio spesso ottiene una resa maggiore. E proprio per questo ho deciso di avvicinarmi ad un paio di cuffie di un brand che invece solitamente apprezzo molto. Di che cuffie sto parlando? Di queste, si chiamano Blitzwolf, BW HP1, un nome in codice orribile per quanto mi riguarda. Sono delle cuffie super economiche che costano appena 35€ ma che potete acquistare con un codice a sconto del 15% attraverso il link qui sotto in descrizione, il codice appunto che vi metterò sotto. E fatevelo dire, a me hanno lasciato veramente a bocca aperta perché nonostante siano delle cuffie economiche, sono delle cuffie che invece sono davvero molto bene. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, iscrivervi al canale Telegram ovviamente di cui vi lascio il link in descrizione, si chiama Affari con Tech. Non perdetevi tutte le prove e le foto che postiamo su Instagram, account tecnologici e sempre Zod. E niente, siamo pronti per incominciare, andiamo un po' a vedere di che parte sono fatte queste cuffie. Iniziamo subito quindi andando a vedere quello che vedrete anche voi una volta ricevute queste cuffie. Quindi procediamo con l'unboxing. Subito vi specifico una cosa, l'unboxing ci fa capire assolutamente che non si tratta di un prodotto premium, al di là del fatto che la mia scatola appunto è un po' rovinata. Subito, una volta aperta, potrete comprendere quali sono le principali caratteristiche e che cosa c'è in dotazione. Lo apro, qui trovate la bustina di plastica in cui sono contenute le cuffie appena le tirate fuori, quindi purtroppo manca una custodia ad esempio per trasportarle in giro, ma non avendoci speso tantissimo onestamente ne posso fare anche a meno. Poi abbiamo il cavo micro USB, USB per la ricarica di tipo standard, va bene con qualsiasi tipo di alimentatore che avete, anche quello ovviamente del vostro smartphone. E abbiamo appunto il cavo con il jack da 3,5 mm che si dovrebbe adattare praticamente a qualsiasi tipo di utilizzo. Questo cavo ci permetterà di avere qualche piccola chicca in più, ma di questo ne parlerò più avanti. Poi ovviamente è presente il libretto con la guida rapida per andare a utilizzare le cuffie e il certificato di garanzia. Quello che appunto vi voglio confermare è che queste cuffie non sono assolutamente di tipo premium, ma la qualità costruttiva che viene trasmessa una volta tirate fuori dal loro buscio è assolutamente interessante. Quindi andiamo a vedere un po' come sono fatte. Queste cuffie sono realizzate principalmente in plastica e una plastica anche nero lucida che trattiene qualche impronta, ma niente di esagerato, e di ecopelle. Come potete vedere sono imbottite nella parte inferiore dell'archetto, proprio dove va a premere sulla nostra testa, e anche i pad sono imbottiti molto bene. Anzi, questi pad si vanno a poggiare sui nostri padiglioni in maniera molto comoda, e anche per me che porto gli occhiali devo dire che la costruzione è più che buona. Troviamo infatti la possibilità di allargare gli archetti, sono molto elastiche, e devo dire che secondo me sono anche abbastanza confortevoli. Le ho utilizzate per diverso tempo, ad esempio anche circa 2-3 ore di ascolto di musica, quando sono in giro ad esempio, e non mi ha dato affatto fastidio. Come potete vedere io porto gli occhiali, ma questi vengono assolutamente attutiti da questa cuffia, da questo pad di cui vi ho parlato prima. È sicuramente da sapere il fatto che questi padiglioni sono molto morbidi, e però l'ecopelle, appunto la pelle sintetica che sta utilizzata, ci farà sudare un pochino. Devo dire che in questo momento d'inverno non mi ha dato molto fastidio. Oltretutto sono estremamente ripiegabili, quindi molto comode se le vogliamo buttare nel nostro zaino, e hanno una serie di funzionalità abbastanza interessanti. Come possiamo vedere la cuffia principale è quella a destra, perché su questa cuffia troviamo i due principali pulsanti. Quello di regolazione del volume, che ci permetterà anche di andare avanti o indietro con il brano musicale che viene riprodotto. Quello di accensione, che invece ci servirà anche tenendolo premuto per, ad esempio, rispondere a una chiamata, per poter effettuare il padding con i nostri dispositivi. E poi abbiamo qui il cavo dedicato alla ricarica, quindi il micro USB. E accanto c'è il piccolo microfono ambientale. Difatti queste cuffie possono essere utilizzate anche per le conversazioni telefoniche. Tenete conto che però se sono collegate via cavo, che invece verrà inserito sulla cuffia di sinistra, queste non saranno in grado di riprodurre appunto la nostra conversazione e non potremo utilizzarle come microfono. Purtroppo vi anticipo che il microfono ambientale, secondo me, è una di quelle cose su cui è stato risparmiato di più da parte di Blitzwolf. Ma se devo andare a rincare i limiti, i difetti di queste cuffie, vi assicuro che stiamo praticamente vicini alla fine. Ma andiamo al sodo. Come si comportano queste cuffie e come suonano? Onestamente da un paio di cuffie che si possono acquistare a 30 euro, dotate di tecnologia wireless, quindi senza il bisogno dei cavi le aspettative erano davvero basse. E invece, fatevelo dire subito, siamo nei dintorni di Natale e queste sono un perfetto regalo tech per qualche vostro amico, ma anche per voi stessi, perché onestamente andarci in giro, sentire la musica, è una delle cose che sono riuscite ad apprezzare di più, perché comunque non sono dotate di isolamento attivo del rumore, ma di isolamento passivo sicuramente sì, perché il padiglione auricolare copre bene il vostro orecchio e quindi sarete comunque molto isolati rispetto all'esterno. E questo secondo me è assolutamente un pregio. Continuando poi, diciamo, la questione più tecnica, posso dirvi che queste cuffie hanno un range di frequenza che va dai 20 Hz ai 20 kHz, ossia tutta la frequenza che l'orecchio umano può appunto ascoltare. E lo fa in maniera piuttosto pulita, perché non va a pretendere di oltrepassare quella frequenza, come a volte mi capita di leggere nelle schede tecniche, pur sapendo che non possiamo appunto ascoltare ad esempio gli ultrasuoni. Secondo me lo fa in modo pulito, perché appunto la gamma delle frequenze è riprodotta molto bene, senza andare a esagerare su una frequenza in particolare. Anche se, come mi è capitato un po' spesso di sentire in alcune circostanze con appunto cuffie economiche, i bassi sono sicuramente un po' spinti, ma a seconda del tipo di genere musicale che vi piacerà ascoltare, potrebbe anche far piacere avere questi bassi un po' spinti. Inoltre possono arrivare a un volume di 108 dB, che sono molto elevati, e questo significa anche avere un volume molto corposo, è un suono che ha un discreto corpo e che assolutamente può fare al caso di chi sta cercando un paio di cuffie non da puristi. Un altro piccolo difetto che invece devo elencare per quanto riguarda queste cuffie riguarda il bluetooth. Purtroppo hanno scelto, Blitzwolf ha scelto un modulo bluetooth appunto 4.1, una versione che non è delle più recenti e che quindi ha insita un po' di latenza. Se state guardando un video ci sarà sicuramente un po' di latenza, sia un po' di ritardo tra quello che state vedendo e l'abbiale delle persone appunto che stanno parlando. E questo può un po' far storcere il naso. Questa latenza ovviamente scompare dal momento in cui utilizzate il cavo, il jack audio, con il jack audio appunto da 3,5 mm. Questo significa che, ad esempio, se siete in giro, se siete in aereo ad esempio, potrete utilizzare queste cuffie con il cavo e sia l'atterraggio che decollo non avrete bisogno di toglierle, perché appunto soltanto gli auricolari wireless devono essere limitati. E inoltre non avrete più quel fastidioso problema di latenza. Se le utilizzate spesso per la musica vanno benissimo appunto con la tecnologia wireless. Se invece il vostro utilizzo prevede anche un minimo di contenuti multimediali, come capita spesso, vi basterà tenere a portata di mano il cavetto che è appunto presente in confezione. E questo secondo me basta a passare sopra al problema della latenza, che onestamente potrebbe essere anche ridotto. Come vi ho detto, queste cuffie sono acquistabili al prezzo di 35€ dal sito Banggood, di cui trovate il link qui sotto in descrizione, ma utilizzate assolutamente il nostro codice in modo tale da scontarvi appunto quel 15% aggiuntivo e avere le cuffie a meno di 30€. Per me, per meno di 30€, sono davvero delle cuffie fantastiche, perché sono wireless, sono ben costruite e onestamente hanno superato di gran lunga le mie aspettative perché hanno avuto un suono decisamente pulito. I difetti che vi ho elencato prima durante la recensione non sono tali da doverle buttare in eccesso perché onestamente per 30€ queste sono cuffie che sanno il fatto loro e che potrebbero darvi moltissimo tempo di buon intrattenimento. Per me adesso è davvero tutto, questa era la mia opinione su queste cuffie wireless, sono molto curioso di conoscere la vostra opinione, fatemi sapere che cosa ne pensate e soprattutto fatemi sapere perché secondo voi andrebbero acquistate oppure no. Aspetto i vostri commenti qui sotto o appunto anche su Instagram. Ci vediamo al prossimo video, ciao come sempre da Stefano per Team Tech.